cari amici potrete facilmente immaginare come anche il sottoscritto stia patendo le pene dell'inferno per quanto riguarda questo caldo sempre più opprimente dal quale sembra impossibile sfuggire insomma è abbastanza difficile registrare video con questo calduccio ma è anche vero che ci sono molte attività ben più impegnative e allora registriamo un video tornando ai fumetti tornando alla sergio bonella editore buonasera a tutti ben ritrovati su canno tv oggi torniamo a parlare di tex perché ho appena finito di leggere un maxi tex piuttosto interessante se non altro poiché scritto da due grandi autori insomma concepito ecco da due grandi autori claudio inizia la scrittura e giampiero casertano ai disegni casertano che si era occupato anche del texone recentemente e io non sono molto soddisfatto dell'andazzo dell'ultimo andazzo circa il autore che compaiono in qualità di disegnatori soprattutto sulle pagine dei texoni perché spesso e volentieri ultimamente stiamo vedendo autori già ben noti insomma nel panorama bonelliano ecco quindi si perde un po quel come posso dire quel quel fascino con l'originalità che un tempo caratterizzava i texoni dal momento che spesso si vedevano degli artisti estranei oltre che al personaggio di tex anche alla bonelli in generale spesso e volentieri anche autori stranieri esteri insomma come ben sappiamo ultimamente invece ci sono sulle pagine dei texoni degli autori che spesso ritroviamo anche in altre testate bonelli spesso addirittura sullo stesso tex come l'ultimo uscito proprio in questi giorni di maurizio dotti disegnato perlomeno ecco da maurizio dotti e altra particolarità che non mi convince più di tanto spesso e volentieri ultimamente abbiamo assistito dopo la comparsa ecco sul texone in qualità di disegnatori anche ad altri ad altre pubblicazioni ecco di tex disegnate appunto altri speciali come appunto i maxi tex disegnate dagli stessi disegnatori che compaiono sui texoni quindi questo rende un po troppo consuete queste matite sulle pagine di tex togliendo secondo me la loro l'originalità della collana appunto dei texoni ma tolta questa parentesi oggi parliamo di un maxi tex risalente all'ottobre dell'anno scorso all'ottobre del 2022 quando ancora non faceva caldo ecco quando quando non si sudava un texone anche piuttosto corposo sono 340 pagine 330 di storia o giù di lì più una decina di pagine di approfondimento per esempio alla fine ci sono delle bellissime pagine di approfondimento dove vediamo gli schizzi preparatori di casertano con questi volti che forse possono in qualche modo ricordare nelle caratterizzazioni dei comprimari soprattutto degli antagonisti che compagnano in questa storia alcuni vecchi volti di leggende di hollywood della hollywood dell'epoca e guardate come il volto di questo bandito può ricordare forse perlomeno per sommi capi il volto di eduard g robinson leggendario attore rumeno da piccolo cesare alla donna del ritratto la strada scarlata insomma una delle leggende appunto della vecchia hollywood il maxi in questione il maxi tex in questione è uscito appunto qualche mese fa ma io ho avuto modo di leggerlo soltanto in questi giorni per via del mio solito ritardo quindi probabilmente l'avrete già letto forse l'avrete anche già rimosso e in rete potete trovare tanti altri pareri più interessanti del mio a riguardo è una storia che a me non ha soddisfatto fino in fondo è peccato perché comunque claudio nizi è sempre un grandissimo sceneggiatore su tex secondo me uno dei dei migliori perlomeno uno di quelli che ha carpito meglio la lezione naturalmente di gian luigi bonelli cioè del padre a tutti gli effetti di tex proseguendone con risultati secondo me efficacissimi anche le sfumature tipiche di questa testata tipica di questo personaggio per esempio anche in questa storia si assiste a dei meravigliosi secondo me si parietti tra tex e kit carson compaiono solo loro nella storia quindi niente tiger jack e niente kit willer quindi il figlio naturalmente di tex dicevo claudio nizi è bravissimo a scrivere i personaggi insomma del mondo texiano le battute gli scambi insomma i si parietti tra tex e carson sono divertentissimi mirabilissimi puntuali brillanti efficaci anche nel corso di questa storia però secondo me manca quel coinvolgimento soprattutto nella parte finale tipico delle storie scritte da claudio nizi quel pados forse che spesso troviamo quando ci troviamo a leggere storie di tex e magari naturalmente anche di altre testate ma ci concentriamo su tex scritte da claudio nizi anche se tuttavia il soggetto di questa storia è molto interessante infatti il colonnello nordista forest viene barbaramente ucciso e sembrerebbe che ad ucciderlo siano stati quattro ex ufficiali suddisti per quale motivo però per una vendetta per quale motivo l'hanno ucciso in un modo tanto particolare e tanto feroce naturalmente toccherà a tex e carson cercare di capirci qualcosa e cercare anche di rintracciare questi quattro ex ufficiali suddisti dopo averne scoperto in qualche modo i nomi le identità quindi uno schema che potrebbe ricordare in qualche modo uno schema quello dell'eliminazione che piano piano tex e carson ne eliminano uno dopo l'altro di questi quattro ufficiali fino ad arrivare all'ultimo il più importante un certo colonnello emilton che è il capo anche peraltro di questo quartetto l'uomo con con più esperienza con una certa saggezza anche alle spalle questo schema molto classico potrebbe ricordare forse ad alcuni alcune pellicole western anche molto molto belle insomma molto molto famose molto conosciute da bravados con protagonista gregory peck a nevada smith che aveva per protagonista steve mcqueen ecco è uno schema che si è già visto naturalmente molte altre volte insomma nei racconti western e che claudio nizi rielabora comunque tutto sommato bene sappiamo quanto la scrittura di claudio nizi soprattutto su tex ma anche su altre testate vedi leopalpe per esempio ha da sempre pescato dal cinema soprattutto quello classico hollywoodiano quindi naturalmente anche questi riferimenti queste impressioni sparse che il lettore può avere durante appunto lo svolgimento di questo maxi tex non sono buttate lì a casaccio molto probabilmente ma sono frutto di una intelligente rielaborazione di schemi di cliché di luoghi comuni tipici della cinematografia western e più in generale della narrativa western però secondo me soprattutto nella parte finale di questo maxi tex manca quel fuoco quel coinvolgimento appunto quella quella brillantezza quel pados che spesso e volentieri si ritrovano e si ritrova nelle storie appunto scritte da claudio nizi e anche i disegni di casertano naturalmente sa va san dire la copertina è di claudio villa una copertina non particolarissima una copertina che ci offre insomma un'immagine che che potremmo potrebbe andare bene per molte altre storie un'immagine di repertorio si potrebbe dire effettivamente compaiono soltanto tex e carson perché i protagonisti sono loro non ci sono gli altri due part di tex e ci sono anche delle sequenze un po deja vu c'è una ragazza una giovane ragazza che viene rapita e che naturalmente tex e carson dovranno cercare di liberare ecco ci sono delle situazioni che vengono aggiunte anche per arrivare alla durata di 340 330 pagine che non sono assolutamente poche che non aggiungono secondo me molto di più a questo racconto ci sono anche vi dicevo prima appunto guardando i bozzetti preparatori di casertano ci sono dei volti che potrebbero in qualche modo ricondurci a vecchi divi guardate una velata somiglianza secondo me con Henry Fonda per quanto riguarda questo personaggio che tra l'altro incontrano tex e carson e che risulterà essere insomma un loro alleato nonché una loro vecchia conoscenza nel corso di questa avventura sono abbastanza i personaggi che compaiono nel corso di questa storia ma tuttavia non tantissimi uno dei pregi secondo me di questo racconto è di non risultare estremamente confusionario estremamente articolato come anche altre storie scritte da Claudio Nizzi secondo me uno dei pregi di questo scrittore è proprio questo è la linearità, la semplicità con cui la storia viene ricostruita nonostante l'imponenza delle pagine che la compongono appunto siamo oltre le 300 pagine vi mostro, vi sfoglio un po' le pagine di questo volume per mostrarvi i disegni di casertano, le vignette di casertano che rimane sempre uno dei più grandi disegnatori della Sergio Bonelli Editore guardate appunto come riesce a caratterizzare i volti soprattutto degli antagonisti anche non solo per quanto riguarda i tratti somatici del volto ma anche per quanto riguarda l'abbigliamento non si corre mai il rischio secondo me nel corso di questa avventura così come anche nel texone disegnato da casertano di confondere tra di loro i personaggi perché la caratterizzazione che opera casertano è tale da differenziarli bene uno dall'altro però è un casertano un pochino più come devo dire un pochino forse più sottotono rispetto perlomeno alle tavole realizzate per il texone forse un po' meno virtuosismi un po' una insomma un compito eseguito bene vedete anche i paesaggi gli sfondi naturalmente non ci sono sfondi particolarmente elaborati nel senso che non ci sono grandi cittadine questa storia si 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 svolge spesso e volentieri in campi aperti quindi ecco gli sfondi comunque sono disegnati naturalmente bene così come è tutto fatto molto bene vedete anche la ricerca nei dettagli nei particolari però secondo me manca di origine manca di particolarità manca di di virtuosismo tecnico che forse era presente era più presente perlomeno nel texone rispetto a questo a questo maxi è un un casertano bello sicuramente bello guardate anche che belle espressioni naturalmente è un casertano capace di coinvolgere nell'azione però secondo me non un casertano eccelso non uno dei migliori casertani visti sulle pagine non solo di tex ma di albi bonelli seppur naturalmente il disegno sia ben fatto anche le ombre vedete come sono ben restituite quindi sicuramente il lavoro è di ottimo livello come naturalmente la stragrande maggioranza dei lavori della Sergio Bonelli di Torrens che la Sergio Bonelli di Torrens ci presenta ecco la Bonelli fa i fumetti li sa fare molto bene li fa da molto tempo quindi è come se si andasse sempre sul sicuro però forse da un maxi tex ci si aspetterebbe qualcosa di un pochino più coinvolgente un pochino più entusiasmante una bella storia però i maxi tex secondo me ci hanno abituato a qualcosa a qualcosa di più ma non tutti naturalmente possono eccellere è una storia che considererei di recuperare però non proprio a tutti i costi nel senso che se cercate delle belle avventure di tex per quanto riguarda i maxi forse fossi in voi darei la precedenza ad altre avventure ad altri numeri nonostante comunque anche questa storia abbia delle sequenze mirabili sia nella scrittura che nei disegni fatemi sapere voi che cosa ne pensate nel caso naturalmente l'abbiate letto e nel caso ve lo ricordaste io vi ringrazio per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo filmato ciao a tutti